ciao a tutti ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale lo può fare tranquillamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina eh concludendo il discorso di stamattina su O3 paragonato al governo tecnico di Monti eh c'è da dire una cosa importante ovvero sia che eh con Zang parlo in termini di gestione societaria ovviamente eh questi di O3 non hanno lasciato il minimo potere decisionale a Marotta sono delle banche quindi agiscono solo ed esclusivamente in base ai numeri che respirano che vedono e che vogliono eh vedere eh loro stamattina dicono che per essere competitivi i signori di O3 serve lo stadio ripeto io non ce l'ho con O3 perché loro non se la sono andata a cercare hanno prestato dei soldi non gliel'hanno restituiti e avevano in garanzia l'Inter quindi ho nulla contro O3 non ho nulla io loro dicono che per competere ad alto livello serve lo stadio io e signori di O3 dico che per competere ad alti livelli servono soldi e giocatori prima dello stadio anche perché per rientrare dalla spesa dello stadio servono sei sette anni quindi eh per l'immediato eh servono soldi e giocatori cosa che i signori di O3 eh non metteranno ovviamente nell'Inter eh c'è un dato però ragazzi che ha del clamoroso io sinceramente non mi sento di criticare un fuorilasse come Lautaro Martinez ma il fatto è comunque io abbia eh inneggiato a a prendere un attaccante un bomber eh purtroppo il motivo è anche un altro perché eh Lautaro Martinez ed è un dato clamoroso non segna da diciannove partite in Serie A e addirittura non segna in Serie A dal quattro marzo duemila eh dal quattro marzo sì dal quattro marzo duemilaventiquattro quindi sono diciannove partite l'ultimo gol contro il Frosinone sono diciannove partite senza fare gol ora sarà tutta colpa sua oppure da marzo aprile c'è stato un rallentamento in termini di produzione di palle gol perché non possiamo dare tutta la colpa a Lautaro magari l'Inter da da marzo aprile un poi ha un po' decelerato non era non è stata più quel rullo compressore che era stata fino a quel punto lì perché Lautaro l'anno scorso nelle prime sei giornate fa sei gol di cosa ragioni anzi di cosa stai ragionando è anche vero che è dovuto tornare prima dalle vacanze molto probabilmente non ha recuperato dalle tossine ma in Argentina va in nazionale e fa cinque gol in sette partite e vince la Coppa America quindi all'Inter ha un rendimento e da marzo ad oggi sono tanti mesi e il nazionale negli ultimi mesi ne ha un altro ovviamente a noi farebbe piacere che il rendimento della nazionale lo spostasse all'Inter però bisogna capire se è tutta colpa di Lautaro perché segna poco nell'Inter negli ultimi mesi o seppure da parte proprio della squadra eh c'è stato diciamo ehm un minore flusso di gioco ecco chiamiamolo sì un minore un minore flusso di gioco eh per permetterlo nelle condizioni di segnare perché ieri secondo me lui eh ha avuto c'è stato un netto miglioramento per quanto riguarda Lautaro perché ha lottato ha fatto un bel tiro centrale ma l'ha fatto movimento eccezionale ed ha fatto un assist da fuori classe a Di Marco quindi a me io non mi sento di dire ieri Lautaro ha giocato male assolutamente no ma manca il gol e gli attaccanti vivono per questo vivono per il gol quindi a maggior ragione a noi serviva un attaccante che potesse buttare la palla dentro quindi eh per quello poi io anche mi sono incazzato giorni fa a noi serve uno che che appena vede la vede un minimo di porta boom tiri e fai il cerchio di fare gol o un rapinatore d'aria o anche uno che riesca a fare gol quindi questo è un dato preoccupante secondo me ripeto bisogna capire bene no colpa perché dire lì è la colpa è anche brutto e riduttivo allo stesso tempo bisogna capire perché questo giocatore all'Inter non segna più da marzo dai primi di marzo dal 4 marzo ultimo gol in serie A contro il Frosinone è roba per un fuorilassimo per lui cioè quindi anche questa cosa qui cerchiamo di analizzarla visto che comunque ci dobbiamo rimboccare le maniche dopo la figura di merda di ieri sera cerchiamo di capire anche perché Lautaro Martinez non riesce più a segnare ora senza fare allarmismi senza stare lì eh eh gli hanno dato dieci milioni perché ho sentito anche questi discorsi gli hanno dato dieci milioni alla pancia piena non ha più fame io non penso sia questo penso sia solo un periodo un brutto periodo per quello che riguarda la le le realizzazioni ma che in effetti sta durando da troppo tempo e secondo me qui bisogna capire perché Lautaro non riesce più a segnare dipende tutto da lui dipende anche dalla squadra per me c'è una via di mezzo nella cosa però come in tutte le cose poi alla fine però ragazzi attenzione attenzione io spero che alla prossima ne faccia tre almeno si porta avanti ogni lavoro però mai e poi mai mi sarei immaginato Lautaro Martinez che in serie anno riesce a segnare dal 4 marzo facendo l'ultimo gol a Frosinone lascio a voi le impressioni iscrivetevi al canale like al video se vi è piaciuto ciao inter